Preso a pugni mentre in un'aula del tribunale di Gela si stava celebrando una causa di separazione vittima dell'accaduto e un avvocato. Il legale è stato aggredito dall'ex compagno della sua assistita. Immediato l'intervento di alcuni presenti, ferma e dura presa di posizione per quanto accaduto da parte dell'ordine degli avvocati di Gela. Ci ha lasciato sconvolti e anche turbati per un certo senso di questo avvenimento così ingrescioso che ha coinvolto un nostro collega proprio all'interno del tribunale e nel momento in cui lo stesso stava svolgendo quello che era la sua professione. Sicuramente siamo stati colpiti da questo avvenimento tant'è che abbiamo subito sentito l'esigenza di notiziare di ciò anche il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica, il dottor Razzaro, i quali hanno manifestato subito la solidarietà alla classe Forenza e al collega per questo fatto brutto, richiamiamolo. Oggi avremo un incontro straordinario di consiglio proprio per esaminare nei dettagli di questo avvenimento e prendere quelle iniziative assieme anche alla magistratura perché fatti del genere non accadono più e quindi anche che la nostra professione venga rispettata e che quella professione venga esaltata ancora di più. Noi siamo una nobile professione e tale vogliamo rimanere. L'avvocato, vittima dell'aggressione, ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari. Io ho chiamato proprio ieri sera anche il collega subito dopo che lui era stato all'ospedale per farsi medicare e refertare. Lo stesso mi ha assicurato che le condizioni tutto sommato era ancora sconvolto per quando gli è accaduto proprio nel momento in cui stava svolgendo la sua professione di avvocato. L'ospicio, la speranza che determinati episodi non accadono in più? Noi vogliamo questo sicuramente, che questi episodi non avvengano più anche perché proprio in questi ultimi tempi oltre al fatto che ha colpito il nostro collega ci sono stati altri avvenimenti che sicuramente voi conoscete e che veramente anche quelli ci fanno molto riflettere. Speriamo che veramente sia la fine.